In 1-10 Rossoglu prova a beffare le marchi in uscita con un pallonetto, la palla però rimbalza nei prezzi della linea di porta e termina alta di pochissimo. Gol sbagliato e gol subito, la legge del calcio si ripete, al settimo della buona respinge corto un cross, il pallone giunge Elia, chi di sinistro batte Cesari tra l'1-1. Al ventesimo i primi cambi e Ruben...